Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Siamo arrivati alla seconda domenica di avvento. Il messaggio più intenso è la promessa di Dio attraverso Isaia. Dice il testo della prima lettura nell'ultima riga, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. In realtà il testo originale del profeta usava una parola ancora più forte, diceva ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Non mi dispiace questa traduzione più letterale perché chiamando l'uomo carne si sottolinea tutta la sua debolezza, anche tutto il suo possibile egoismo, la sua prepotenza. E poi la parola ogni carne avvicina l'uomo a tutto l'immenso mondo animale che tanta parte ha anche, soprattutto oggi, nella nostra socialità. Dio allora prepara la salvezza per ogni carne. La storia continua con tutte le sue politiche, ma il Signore suscita i suoi profeti. I suoi profeti dicono una parola che rianima la vicenda storica. Molte righe del Vangelo di Luca oggi sono dedicati alla data per collocare bene gli avvenimenti nell'impero romano e presentare così la vocazione di Giovanni Battista. Rileggiamo questo testo perché merita attenzione. Ho scritto qui una frase, negli appunti che tengo sotto gli occhi, una frase un po' scherzosa. Il Vangelo di Luca comincia descrivendo il potere, diviso in fettine. Dice Luca, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, questa è la fetta più grossa, siamo nell'impero romano, siamo nel quindicesimo anno di Tiberio, mentre Ponzio Pilato era governatore, Tiberio Cesare che è poi quello che noi chiamiamo Augusto, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, vedete che si prende una regione, anche Ponzio Pilato non è Tiberio Cesare ma è un personaggio che esercita la sua autorevolezza, Gesù apparirà proprio davanti a questo governatore. Poi il Vangelo ricorda Erode, tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello, tetrarca dell'Itturea e della Traconidite, Elisania, tetrarca della Bilene. Vedete come è spezzettato il potere, sembra che la storia sia tenuta stretta da queste molte mani e Luca mette anche l'autorità religiosa sotto i sommi sacerdoti Anne e Caifa, ma poi nell'ultima riga la sorpresa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Giovanni è il personaggio, per così dire, meno grande nella storia apparentemente rispetto a questi personaggi che abbiamo elencato prima, ma in realtà è proprio attraverso questo personaggio che Dio indicherà la strada all'umanità. Giovanni Battista è stato mandato per preparare la venuta del più forte e questo più forte lo ha descritto nella maniera più grande possibile, dice io non sono neanche degno di fargli lo schiavo, non sono neanche degno di togliergli i sandali, di aiutarlo ad aggiustare i calzari e in questo modo Giovanni rivela come la grandezza di colui che chiama il più forte è una grandezza smisurata, non è solo un uomo più in gamba di Giovanni, è qualcosa di incommensurabile. E allora Giovanni avanza la sua richiesta per andare incontro a questo più forte occorre la conversione e la conversione può produrre il risultato finale del perdono dei peccati, della remissione dei peccati. Che cosa sono queste cose? Cerchiamo di renderle più concrete. La conversione è il cambiare mentalità, cambiare mentalità perché si accetta la prospettiva di Dio. La conversione non è solo cambiare parte politica, a volte noi lo diciamo per indicare uno spostamento ideologico, politico, ma qui cambiare mentalità in senso religioso significa assumere la mentalità di Dio, non guardare le cose semplicemente così come appaiono a noi, come appare nel si dice dei giornali o dei telegiornali o della rete o di Facebook, ma cercare di vedere le cose dal punto di vista di Dio. La conversione è questo. I profeti, come Giovanni Battista, ci indicano proprio questa strada. Il cambiare mentalità accettando la prospettiva di Dio, che è offerta soprattutto in Gesù, che è testimoniata soprattutto da Gesù. E qual è la conseguenza di questa conversione? È il perdono dei peccati, cioè il superamento di tutte le cose che in noi sono difetto, egoismo, unilateralità, ingiustizia. Il cambiamento allora della realtà avviene sotto una duplice spinta. Ci sono due forze complementari. Da una parte c'è l'uomo che si impegna a trasformare, si impegna a superarsi, si impegna ad andare al di là del convenzionale, andando verso la verità. Qualche domenica fa ascoltavamo Gesù dire a Pilato, chi viene dalla verità ascolta la mia voce. Dunque c'è un contributo nella storia che viene dall'uomo, che è essenziale. E Dio che cosa fa? Dio completa questo qualche cosa che l'uomo fa con il dono della remissione dei peccati. E si può illustrare questa cosa molto facilmente dicendo, certamente io domani posso fare meglio, posso fare meglio di oggi, se mi impegno di più, posso correre di più, posso allargare le braccia di più. A volte questa è un'illusione, ma questa tensione è possibile, è positiva, è una cosa che fa crescere la storia. Dall'altra però ho parlato del domani, domani posso essere migliore, ma c'è anche il passato. Nel passato ci sono gli errori che io ho fatto e questi errori dove vanno a finire? Se ho fatto dei buchi, i buchi restano? Ecco, proprio qui interviene Dio, quando si parla di remissione dei peccati, il Signore è in grado di aggiustare il nostro passato, di eliminare le incompiutezze, le strozzature che noi abbiamo messo nella vita. Ci aiuta molto pensare che la storia è fatta da queste due forze che si integrano. L'uomo che si protende verso il futuro e cerca di fare sempre meglio. E dall'altra parte Dio che accoglie questo uomo e aggiusta le cose non ben fatte che ci sono nel passato. E perché le cose non ben fatte nel passato, se qualcuno non ce le aggiusta, continuano ad esercitare il loro effetto talvolta nefasto su di noi. Faccio un esempio, per esempio, se noi ci siamo litigati violentemente, disastrosamente con una persona, quella nuova situazione amara che si crea incide su di noi, sugli altri. Se il Signore ci perdona, se il Signore ci dà pace, se il Signore ci aiuta, le cose possono rimettersi in fila molto bene. Quale augurio ci facciamo allora in questo momento di ascolto della parola? Ho preso qualche termine dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. La prima parola che ho scelto è questa. Colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. L'augurio che ci facciamo è scambiarci una promessa. Dio ha cominciato una storia con noi. Ci ha dato tante belle cose. Ascoltiamo Paolo e crediamogli quando dice il Signore porterà a compimento. L'augurio è questo. Colui che ha iniziato in voi il bene lo porti a compimento. La seconda parola che raccolgo da Paolo è la parola speranza. La vostra carità, dice Paolo, cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento. La vostra carità e il vostro amore deve crescere di conoscenza e discernimento. Si tratta di combinare amore e testa. Bisogna riuscire nella nostra vita di uomini a fare una buona sintesi tra queste due cose. A volte la tristezza, la tircheria, ci fanno sembrare irragionevoli certe forme di amore. Per esempio, ma perché devo perdonargli ancora? Torna sempre da capo. Allora è necessario che il nostro amore sia arricchito dall'intelligenza. E l'intelligenza viene formata in noi dal Vangelo. Per esempio, quando siamo tentati di non perdonare, ci possono soccorrere le parole del Signore. Ricordati che devi perdonare, ha detto Pietro, 70 volte 7. E perché devi perdonare 70 volte 7? Perché tu stesso sei immerso in un enorme perdono che Dio ti ha dato. Se tu non sei capace di perdonare agli altri, rischi di non riconoscere quello che Dio ha fatto per te. Come nella parabola del servo spietato, che si è fatto condonare un debito enorme e non ha voluto perdonare una cifra molto, molto piccola al suo fratello. Qual è lo scopo ultimo di tutto questo discorso? Uno scopo pratico. Dobbiamo nella vita distinguere ciò che è meglio per essere integri e irreprensibili nel giorno del Signore. Dobbiamo avere proprio nella nostra vita questo scopo, prepararsi al giudizio finale. Il giudizio finale non è uno spauracchio. So bene che molte culture hanno visto il giudizio finale come uno strumento per spaventare, per fare paura alla gente, ma in realtà è un grande stimolo. Sapere che noi appariremo davanti al Signore che ci giudicherà con amore, con giustizia, con misericordia, ma facendo vedere le cose veramente come sono, è uno stimolo grande a una vita coraggiosa, non banalmente vita casaccio, non banalmente vita superficiale. Questo, cari amici, auguro a voi e a me mentre si avvicina a grandi passi il Natale. Grazie del vostro ascolto benevolo. Grazie del vostro ascolto benevolo.